La protezione civile dell'ANA di Belluno si è riunita in assemblea per fare il punto sulle attività degli ultimi anni che hanno visto impegnati i volontari su numerosi fronti, non da ultimo quello della gestione delle infrastrutture mobili collegate alla pandemia. Il nostro nucleo è composto da oltre 120 componenti e all'assemblea erano presenti una tantina di volontari. Questa si è svolta sabato pomeriggio con le votazioni di 5 elementi del nucleo che vengono eletti dall'assemblea. Principalmente abbiamo lavorato moltissimo con il trasporto vaccini, una cosa quotidiana, drive-in, l'ospedale di San Martino, servizio a sedico, drive-in di sedico e drive-in di paludi che praticamente ci hanno impegnati moltissimo. Poi altri servizi, oltre che trasporto vaccini, anche assistenza eventualmente alla popolazione. Non solo coronavirus, la protezione civile ANA continua a essere impegnata nella sistemazione del territorio con diverse zone della provincia che ancora risentono del passaggio di Vaia e di recente le forze sono state dirette anche verso lo spegnimento degli incendi nella zona del Longaronese. Effettivamente ci hanno impegnato la nostra squadra IB in maniera notevole con una trentina di volontari impegnati negli incendi, più oltre agli incendi in Val di Zoldo, anche il lago di Santa Croce con il monitoraggio del pescaggio del canaver. Infine dal responsabile Dal Molin giunge un appello, l'associazione accoglie con gioia l'arrivo di nuove leve che possano rimpolpare le fila dei volontari dei quali lo testimoniano le recenti vicende. C'è sempre bisogno. Spero che con quel po' che penso non sia poco che abbiamo fatto sia di buon auspicio per i giovani a entrare nel nostro gruppo che effettivamente siamo in tanti ma abbiamo bisogno di nuovi rinforzi.